Ciao Bianconeri, eccoci qua, bentornati sul mio canale, come vedete ultimamente non sto più mettendo la computer grafica alle mie spalle, vedo che è una cosa che vi piace tanto, vi piacciono di più i video così. E allora continuiamo su questa strada. La Juventus vince 3-1 contro il Cagliari, una partita a due facce, un primo tempo in cui la Juventus ha dominato, tripletta di Ronaldo, che avete visto l'ho messo in copertina mentre si avvicina alla telecamera, come dire ditemi, ditemi ancora che faccio schifo, ditemelo se avete coraggio. Poi nel secondo tempo la Juve si è completamente addormentata, il Cagliari è salito un po' in cattedra, ha dominato il gioco, ha segnato un gol, Ronaldo alla fine, proprio all'ultimo minuto, si è mangiato il gol del 4-0, il quarto gol sarebbe stato un bel segnale, però in generale una Juventus, a mio modo di vedere, che ha retto qualcosa come 50 minuti e poi sono crollati fisicamente, si vede che avevano ancora delle energie nervose e anche fisiche accumulate dalla partita di Champions, ma l'importante è che la Juventus abbia portato a casa tre punti perché di questi tempi non era assolutamente scontato. Vedrete, fra poco farò le pagelle, delle pagelle tipicamente neutrali, molto patatone, come direi ai miei amici, nel senso pagelle tipiche da Gazzetta dello Sport, vi farete due risate. Per il resto c'è da segnalare che oggi l'Inter ha vinto ancora una volta, faticando contro il Torino, però ha vinto, quindi lasciamoli andare per la loro strada, è già da un po' di tempo che, ve lo dico, andare a prendere l'Inter è un'impresa quasi impossibile. La Juventus deve concentrarsi su due obiettivi, consolidare il terzo posto e agganciare il Milan, quanto prima possibile. Mentre vi sto parlando ancora, insomma, la partita della Juve è appena finita, il Milan scenderà in campo fra poco, quindi magari vedrete questo video, saprete già cosa ha fatto il Milan contro il Napoli, poi domani ne riparleremo. Ad ogni modo, l'obiettivo della Juve è quello, arrivare al secondo posto che non sarebbe assolutamente una tragedia sportiva, portando a casa la Supercoppa, e sperando, dando l'anima, la vita per portare a casa la Coppa Italia, alla fine della stagione tireremo le somme e faremo le nostre conclusioni. Quindi, insomma, siamo tutti ancora delusi dalla Champions League, lo so, io per primo, ragazzi, è inutile che ce lo ripetiamo, ma noi dobbiamo andare ormai avanti a inerzia, non mollare assolutamente. Dobbiamo mantenere il terzo posto, oggi la Roma ha perso, quindi bene così, e adesso l'obiettivo è agganciare e superare il Milan. Vi faccio le pagelle di questa partita di oggi, molto velocemente, Cesni 6, ha beccato un gol, non ha fatto poco altro, insomma, ha fatto delle prese a terra di tiri del Cagliari, ma niente di eccezionale, con i piedi sempre poco preciso nei rilanci, Cesni 6,5 a De Ligt, mi è piaciuto, tra i vari difensori è quello che mi è piaciuto di più, anche lui, secondo me, non è assolutamente al 100% come forma fisica, ha anche preso qualche botta di qua e di là. Chiellini 6, l'ha spazzata via tre o quattro volte di test, anticipando, insomma, gli interventi degli avversari, ma poi, per il resto, niente di che. Quadrado non mi è piaciuto moltissimo, ma gli voglio dare un 6, anche lui si vede che non è al 100%, in una partita non particolarmente difficile, soprattutto sulla sua fascia, ha fatto quello che poteva, ha spinto un po' in avanti, 6. Alexandro 6, c'è da dire, purtroppo, che dopo 30 minuti si è fatto male, un problema muscolare, ed è stato sostituito poi da Bernardeschi, che anche lui do 6, anche se mi è piaciuto di più. Bernardeschi però in difesa male, colpa sua il gol, altrimenti gli avrei dato un voto migliore, ma nelle ripartenze e nei cross offensivi è sicuramente meglio Bernardeschi di Alexandro. Rabiot 5,5, stasera non una bella partita del francese, Danilo invece messo ancora una volta a centrocampo, ormai, insomma, ci stiamo facendo l'abitudine già la seconda volta, 6,5, Danilo mi è piaciuto sicuramente più di Rabiot. Kuluseschi, signori, 5,5, tanta corsa presente in tanti posti, ma non riesco mai a inquadrare questo ragazzo, non mi piace la sua posizione, non mi piacciono le scelte che fa, ci sono state un paio di occasioni che era lì al limite dell'area, la dava proprio nel posto più intasato, al posto di allargare il gioco, dagli spazio. 5,5 a Kuluseschi, una partita del genere la dovrebbe mangiare, dovrebbe mangiarsi il Cagliari, un giocatore come lui che nasce per giocare in ripartenza, invece non ha mai inciso. Chiesa, invece, 6,5, non una partita eccezionale, Chiesa, secondo me, come tanti altri, è stanco morto, sta tirando la carretta tantissimo, si vede, non arrivava veramente a fine partita, infatti poi è stato sostituito da Artur, entrato male, 5,5, niente di che. Morata, il peggiore in campo per quanto mi riguarda, io a Morata gli do un bel 4,5, ebbene sì, ha sbagliato qualsiasi cosa, ragazzi, due tiri, due volte in bocca al portiere, in certe occasioni dove eravamo in superiorità numerica in attacco ha scelto la cosa sbagliata, si è incasinato. 4,5, Morata ritorna tra noi, perché dopo la Lazio, che avevi fatto, insomma, un exploit particolare, sei sparito col porto e stasera dove eri, CR7, io gli do 8, 8, 8 per la tripletta, sicuramente, 8 per l'impegno, l'8 per la voglia, per non aver mollato, perché un giocatore che decide di mollare avrebbe dato un segnale diverso o avrebbe addirittura chiesto di non giocare, invece ha giocato, ha fatto i suoi tre bei gol, si è mangiato il quarto, ha quasi spaccato i denti al portiere avversario, quello Ronaldo grave, un intervento molto grave, ti è andata bene col giallo, ma era molto arancione quel cartellino, comunque 8 gli avrei dato meno se avesse fatto meno gol, ovviamente, perché non ha fatto una partita di quelle devastanti, ha fatto solo i tre gol, praticamente, gli avrei dato di più se non avesse quasi spaccato in due il portiere. Tra i subentrati Bonucci gli do 6, Frabotta senza voto e McKennie anche lui 5 e mezzo. A Pirlo gli do 5 per due motivi, uno perché ancora una volta non ha il coraggio, in una partita ormai chiusa, perché era chiusa, di mettermi dentro fagioli, al posto di McKennie che l'abbiamo capito tutti che non sta bene fisicamente, perché non mi metti fagioli? Se non lo testiamo in queste partite, quando lo devi mettere fagioli? Questo è un grande dubbio. L'altra cosa è che, insomma, non mi è piaciuto come ha... serviva una motivazione, no? Dopo la batosta di Champions, ok, va bene, vai davanti il Cagliari, ti è andata bene che hai fatto tre gol, ma non certo per merito di Pirlo, ma poi la squadra ha completamente mollato, c'è stato un momento nel secondo tempo che abbiamo addirittura rischiato di subire il secondo gol e allora lì la partita era tutta aperta. Non mi è piaciuto, insomma, poi, come ha gestito anche i cambi in un certo modo. Insomma, non mi ha soddisfatto il mister Pirlo. Ragazzi, è andata bene così, non c'era niente da dire, era una partita obbligatoriamente da vincere, l'abbiamo vinta. Aspettiamo il prossimo giro, come ben sapete dovevamo giocare col Napoli il 17, ma è stata rimandata nuovamente la partita il 7 di aprile, quindi abbiamo una settimana di tempo da adesso per arrivare al Benevento domenica prossima, pomeriggio. L'unico che non ci sarà sicuramente, non so se lo sapete, è Quadrado, che si è fatto ammonire stasera e quindi salterà il Benevento. Ragazzi, noi ci vediamo in settimana, intanto vi ringrazio perché ho superato i 3.000 iscritti e non avrei mai detto di riuscire ad arrivare a questo punto dopo soli sette mesi di canale e ci metto tanto impegno, sapete che mando avanti questo canale quando posso nei miei ritagli di tempo perché faccio un altro lavoro e ho anche i miei impegni privati, quindi grazie a tutti quanti per esservi iscritti al canale, per seguirmi, per parlare con me nella chat di Telegram, per gli abbonamenti, le donazioni, che come sapete va tutto in beneficenza, insomma sono veramente molto contento di quello che stiamo costruendo insieme. Ragazzi ci vediamo molto molto presto e sempre Forza Juve!